Hanno preso il via le serate culturali del teatro di Verzura a Borgo Ammozzano. Il primo appuntamento ha visto protagonista il nostro Fabrizio Diolaiuti, che ha presentato il suo ultimo libro alla scoperta del cibo. Quindi il tema della serata è stato il cibo. Diolaiuti ha raccontato i suoi viaggi alla conoscenza delle materie prime, quelle buone e quelle no, attirando un grande interesse del numeroso pubblico. La serata è stata arricchita dalla partecipazione di tre realtà importanti del territorio. Roberto Andruccetti ha parlato dell'olio e dell'attività del frantoio di Val d'Ottavo. Poi è stata la volta di Antonio Barzanti, che ha realizzato un ottimo vino biologico proprio a Borgo Ammozzano. E per concludere Monica Ferrucci, che grazie al suo greggio di capre, riesce a produrre un formaggio caprino di altissima qualità. Tante curiosità e tanti modi di stare insieme, di condividere. Le persone che partecipano, interagiscono con gli ospiti, è che è un modo per portare ospiti di fama nazionale sul territorio per condividere idee e cose con le persone, stare insieme all'interno di questo splendido contesto, che è bellissimo, del nostro giardino appunto, che accoglie da diversi anni il teatro di Verzure.